Musica Benvenuti al tour virtuale della ricerca e sviluppo ultrasuoni di ESAODE. Qui ci troviamo nel laboratorio degli Erzelli a Genova. La ricerca e sviluppo ha a disposizione 700 metri quadrati per un centinaio di ricercatori, fra cui ingegneri, fisici o tecnici. I vari reparti della ricerca e sviluppo si articolano nella progettazione software e quindi lo sviluppo di sistemi sempre più sofisticati nella gestione del sistema ultrasuoni classico, ma anche di tutte le cose che si sono affiancate a un sistema a ultrasuoni, per cui la gestione del database, per cui la connettività, la cyber security, perché bisogna garantire di poter connettere un sistema in totale sicurezza. Parlando di sviluppo di software, non possiamo non citare una parte sempre più importante per garantire l'affidabilità e le buone performance, che è il gruppo di test. Nel gruppo di test abbiamo a disposizione tutte le apparecchiature attualmente in produzione di Esaote e sistemi sofisticati che permettono il test 24 ore su 24 delle nuove versioni di software e delle nuove versioni di hardware, in modo da garantire la massima affidabilità. Ovviamente si possono utilizzare, affiancato a questi sistemi di test, anche altre apparecchiature, quali i frequenzimetri, oscilloscopi o qualunque altro sistema di misurazione, per poter garantire la migliore verifica dell'affidabilità del sistema stesso. Oltre ai reparti citati abbiamo anche il reparto di sistemi, che si occupa dell'architettura del sistema stesso e delle applicazioni, che dall'inizio della storia degli ultrasuoni alla fine degli anni 70 a oggi si sono moltiplicate in maniera significativa. Per quindi abbiamo applicazioni quali l'aiuto all'interventistica e l'aiuto alla chirurgia. Per esempio abbiamo un sistema abbastanza sofisticato per applicazioni di neurosurgery. Oltre alla progettazione software, una parte importante è chiaramente la parte legata alla progettazione hardware, dove di nuovo abbiamo dei sistemi basati sull'utilizzo di computer, quindi sistemi di CAD, in cui la progettazione avviene prima simulata, prima di poter procedere alla realizzazione degli stessi, alla verifica con sistemi di misurazione. Dalla progettazione elettronica passiamo alla progettazione meccanica. Anche lì ormai la progettazione meccanica si sviluppa tutta tramite sistemi di ausilio computerizzati, quindi sistemi CAD, che vanno sia dalla progettazione della struttura meccanica alla verifica della progettazione meccanica in termini di affidabilità, quindi prove di stress o prove termiche, per garantire che il risultato finale sia il più affidabile possibile. Ultimo è la caratterizzazione dei trasduttori a ultrasuoni. Tramite delle prove in acqua, in bagno d'acqua dei trasduttori, si può misurare il fascio che riesce a caratterizzare il fascio e quindi ad avere una migliore conoscenza delle performance della sonda e quindi a poterla pilotare nel modo migliore. Parlando di sistemi in senso generale, bisogna garantire anche la compliance di questi sistemi alle normative e quindi ESAOTE si è dotata di un gruppo delicato alla compliance, che ha delle attrezzature per poter misurare le emissioni elettromagnetiche o la sensibilità dei sistemi stessi ai campi elettromagnetici e quindi garantire le performance anche in situazioni più critiche. Parlando della storia, ESAOTE nasce nel 1980 e inizia su due settori paralleli. La progettazione di Firenze è più focalizzata allo sviluppo di sistemi portatili, mentre la progettazione di Genova è più orientata allo sviluppo di sistemi di fascia alta carrellati, mainframe. Nella storia abbiamo avuto il piacere di vedere ESAOTE partecipare alla missione Apollo con il sistema AU3 e successivamente anche alla missione verso Marte, sempre con un nostro sistema portatile. Fra i sistemi che abbiamo piacere di ricordare abbiamo il Megas, il primo sistema portatile veramente ad alte performance, il Tecnos, la prima piattaforma digitale, completamente digitale sviluppata da ESAOTE e per terminare gli attuali sistemi in produzione quali? Nella fascia alta, il Malab 9 e il Malab X8, mentre nella fascia dei portatili di alte caratteristiche abbiamo il Malab Omega e il Malab Alpha. E con questo è concluso il tour della ricerca e sviluppo Ultrasuoni di ESAOTE. Vi lascio proseguire con il gruppo di progettazione sonde e il gruppo di Information Technology. Grazie a tutti.